Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi voglio parlarvi di tre tipologie di persone che possiamo incontrare nel nostro percorso lavorativo. Sono tre categorie, tre categorie distinte e probabilmente anche tu ti identificherai in una di queste tre. Chiaramente, ovviamente è una generalizzazione, perché chiaramente tra il bianco e il nero sappiamo che c'è un'infinità di sfumatura di grigio. Però, in 25 anni che faccio questo mestiere, posso dire con assoluta certezza che mi ritrovo sempre queste tre tipologie di persone davanti. Quindi, avendone formate, avendone conosciute a migliaia, posso dare sicuramente un mio parere che si appoggia perfettamente con poi quello che si riscontra. E sicuramente anche tu ti riconoscerai, riconoscerai nella tua cerchia questo tipo di persone. Ok, parto da un presupposto, ok? Non voglio essere giudicante nei confronti di nessuno, ma voglio farvi riflettere. Perché probabilmente c'è qualcuno che ha bisogno, ok, della marcia in più, di avere quella parola, forse, quella convinzione per poter fare quel passo che magari ancora non ha mai fatto. Quindi, in realtà, questo vuole essere propositivo. Anche se ti ritrovi in una situazione che andrò ad elencare adesso in cui dici, ok, non mi ci ritrovo in nessuna delle tre, non importa. Però fai attenzione a come ti comporti e come affronti le sfide per avvicinarti piuttosto che su una o piuttosto che su un'altra di queste categorie. Allora, partiamo con la prima. La prima categoria di persone che incontro è la categoria peggiore, secondo me, ovvero la più pericolosa dal punto di vista tecnico, che sono le persone che vengono tirate giù da genitore barra partner. Siamo nella condizione in cui c'è qualcuno che ti dice che non sei abbastanza, c'è qualcuno che ti fa credere che quello che è il tuo sogno non può essere realizzato, che devi rincorrere un'altra strada, devi cercare un posto fisso, un posto statale. Quel partner che ti dice, attenzione, devi dedicare più tempo alla famiglia, devi dedicare più tempo ai figli, quindi se fai quello io divento passivo-aggressivo e te la faccio pagare. Ecco, questa categoria di persone che si incontrano probabilmente, lo vedo negli studenti, lo vedo nei professionisti, sono le più pericolose perché fondamentalmente vengono rese ogni giorno più insicure e la loro autostima viene sempre messa in discussione proprio da le persone più vicine. E staccarsi da questo tipo di giudizio è veramente dura, anche perché vorrebbe dire mettersi contro la famiglia, mettersi contro il partner, e può diventare un qualcosa di difficile. E questo però potrebbe rovinare, anzi, di sicuro, rovina la vita di queste persone. Io ti posso assicurare che in tanti anni ho visto persone con un talento, con una voglia, con una grinta, che sono state bloccate sia a livello imprenditoriale che a livello proprio di vita dalle persone. Magari ragazzi che volevano fare upskilling, cambiare lavoro, che però non lo potevano fare perché mia moglie mi spacca la testa, mi dice che non dedico abbastanza tempo ai figli. Cioè questo tipo di persona, ok, oppure il classico fidanzato geloso che blocca la fidanzata e gli dice tu devi fare figli, tu devi stare a casa, eccetera. Cioè sembrerebbe un film dell'orrore, ma in realtà posso assicurarvi che sentendo centinaia di studenti tutti i giorni, cioè centinaia al giorno no, ma sentendone centinaia e parlandoci tutti i giorni, e questo da parecchi anni mi sono proprio reso conto che questa categoria di persone è la più pericolosa in quanto loro vorrebbero fare, ma sono rese frustrate da altre persone. E lì non è che troviamo tante soluzioni, cioè la soluzione, proprio per il rasoio di Occam, che vuol dire che la soluzione alla fine è quella più semplice, sarebbe semplicemente di andare via, di non ascoltare, di fare le cose lo stesso e se queste persone ci capiranno bene, se non ci capiranno bene lo stesso. Quindi siamo in una condizione difficile, però questa è una categoria importante che equivale a un terzo delle persone che stanno sul mercato che non fanno cose perché qualcuno distrugge i loro sogni e la loro autostima. Ok, questo è un pilastro importante delle persone che fanno parte delle professioni tutti i giorni, che esistono e se ci pensi o anche tu fai parte di queste persone o ne conoscerai di sicuro qualcuna. Sono persone purtroppo che devono scontrarsi emotivamente con altre persone che cercano di opprimerle e questo purtroppo è una realtà. Ok, oggi qua lo elenchiamo semplicemente. Non diamo un giudizio, però chiaramente per uscire da questa situazione è chiaro che non è una cosa così semplice, ma posso dirti che un terzo delle persone che ho conosciuto sono state rovinate da parte delle famiglie. I genitori classici che ti dicono no ma non fare questo master, vai a cercarti un posto statale. Ne ho sentita una da poco che diceva ok studiati scienze giuridiche fatti da triennale per andare a prendere il posto statale. Cioè queste persone qua che consigliano queste cose sono pericolose, sono pericolosissime perché rovinano la vita delle persone. Come un professore sbagliato rovina la vita dello studente, i genitori e i partner, magari da una parte in buona fede, dall'altra parte egoisticamente per un senso di possessione, rovinano la vita di queste persone qui. Perché non sono libere di esprimersi, vorrebbero fare una cosa ma si sentono oppressi e non la fanno. E non sono in grado di esprimere i loro sogni, i loro desideri, di portarli al termine. Perché poi come vedremo nelle categorie successive non è impossibile. Se tu vuoi fare una cosa, come lo dico sempre in questa rubrica sono sempre qua a dire le stesse cose, se vuoi raggiungere un obiettivo fidati che lo raggiungi, non c'è nulla che te lo impedisce se non cose che sono nella tua mente. Ok? Ricorda bene questa frase, segnatela. Ti basterebbe il 50% delle competenze che trovi dentro quest'accademia per essere più bravo del 90% dei professionisti là fuori. E non sto dicendo una cosa esagerata, non è un iperbole, anzi sto andando ancora a diminuire perché forse dovrei dire il 99%. Perché? Perché effettivamente là fuori non è fatto di gente molto brava. Te lo posso assicurare, le competenze che acquisisci in accademia ti portano a essere sopra la media di gran lunga, basterebbe la metà per essere più bravo del 50%. Perché però tutti quelli che escono all'accademia non sono quel 10% di persone più brave? Perché ci sono queste categorie di persone di mezzo. Immagina che tu volevi cambiare vita, ti sei iscritto in accademia, vai sono carico e poi dall'altra parte sei costantemente smontato. Dalla famiglia, dal partner, sei costantemente buttato giù. È ovvio che se poi in un momento di debolezza finisci per crederci e ascoltare queste cose, molli tutto e non vai più avanti. Hai sprecato un'opportunità, hai perso un treno, hai perso del denaro, hai perso l'opportunità di acquisire delle competenze che una volta acquisite nessuno ti può mai togliere. Sono l'unica cosa. Ragazzi, la saggezza acquisita, barra competenza, è l'unica cosa che nessuno potrà mai stirparvi. Non ve la possono portare via neanche con la forza. Non c'è modo. Quindi, perché togliersi questa opportunità? Per altre persone? Per accontentare altri? No ragazzi, perché una persona che sta bene con se stessa, che è felice, rende felice anche gli altri. E a volte bisogna imporsi, però chiaramente qua si entra in altre dinamiche. Ora andiamo alla categoria numero due, che sono le persone che credono che in qualche modo qualcosa gli sia dovuto. Allora, ti dico con tutta fermezza, qua di fronte a questa camera, dopo 25 anni che faccio questo mestiere e dopo avere una rilevanza anche sul mercato, ti dico che nessuno deve niente a nessuno, ok? Tu non hai diritto a nulla se non a dimostrare, la libertà di dimostrare quanto vale al mercato. Il mercato è da una parte spietato, ma dall'altra parte sterile e laico. Quindi ti permette assolutamente di esprimerti come vuoi. Se però ti metti nella condizione di credere che qualcosa ti sia dovuto, ragazzi, questa categoria di persone equivale a un terzo, e ne vedo tantissimi, ne vedo tantissimi anche a livello di studenti, cioè che aziatteggiano alla vita lavorativa, alla professione, alla scuola, alle istituzioni così, sembra che non abbiano nessuno stimolo, dei sensossa, che li muova, c'è il fuoco completamente spento, appannato, in quanto nella loro testa c'è ok, non mi interessa, cioè mi è dovuto qualcosa nella vita, quindi sono protetto dalla famiglia, dallo Stato, e in qualche modo me la cavo, quindi io non muoverò un dito, ok? Là sotto c'è un sogno, sempre, in ognuno, anche a quelli che affrontano la vita così. Ah, c'è, c'è anche lì. Però c'è un qualcosa che equivale a una mentalità sbagliata che gli fa dire che qualcosa gli deve essere dovuto, quindi non compiano azioni propositive, ma sono in attesa passivamente che qualcosa gli arrivi, ok? Non arriverà mai niente nella vita. Tutte le persone sul mercato che ho visto, studenti compresi, che credevano che prima o poi qualcosa doveva arrivare, perché in quanto ne avessero diritto, per quale legge non si sa, non è mai arrivata. Non hanno mai fatto carriera, non sono mai usciti con buoni voti, non hanno mai iniziato la professione, ed è una grossa fetta, ed è difficile scardinarla questa cosa, perché tu puoi mettere tutta l'energia che vuoi a fare divulgazione, a fare formazione, a insegnare, a dare opportunità, ma se una persona è completamente passiva alla vita, difficilmente tu riuscirai a fare qualcosa per aiutarla, e a un certo punto dovrai lasciar stare. E dispiace, perché sono persone che probabilmente hanno una grande potenzialità, ma ha un mindset sbagliato, probabilmente dovuto dal retaggio dei genitori, io sono sicuro che arriva da lì, perché, cioè voglio dire, probabilmente non so se avete affrontato degli esami di psicologia, ma è una cosa abbastanza semplice capire e comprendere che è una proiezione familiare, quella che comunque le persone che hanno un grosso problema portano avanti, e quindi è ovvio che arriva da lì. Questi transfer difficilmente possono essere intercettati da terze persone risolti, deve essere la persona stessa a fare delle azioni per interrompere questi partner, questi transfer della famiglia. E in questo caso ti dispiace, cioè a me, io dico quando li vedo, anche quando sono in azienda, vedo queste persone che comunque sono realmente negative nei confronti di tutto, di spotiche, non riesci proprio a dire, cavoli, quanta energia sprecata in questa persona, quanto che potrebbe fare, quanti sogni che rimangono lì buttati per terra proprio per un qualcosa che poi è veramente di poco, ok? Di poco, perché basterebbe poco a cambiare la situazione se fosse, deve arrivare dalla persona, ovvero quindi se fosse lui a dire, lui e lei a fare questo tipo di ragionamento, basterebbe poco, perché dice ok, basta, devo cambiare, e lo faccio e basta. A volte sono anche le due cose insieme, si rendono persone anestetizzate alla vita proprio perché qualcuno le oppresse, quindi le due categorie insieme, però molto spesso sono differenti proprio dal fatto che da una parte vedi gli occhi che brillano, ma non possono farlo perché comunque ti dicono guarda ho una famiglia, i miei genitori non vogliono, eccetera, dall'altra parte vedi una sorta di rassegnazione, come se fossero anestetizzate dalla vita, dei sacchi di carne messi lì, che dici, porca miseria, che spreco. E poi c'è la terza categoria, che la terza categoria è quella che ovviamente ha e mette a disposizione tutto il potenziale per arrivare ai propri obiettivi. E non sto parlando di talenti, perché il talento in queste categorie non lo inserisco nemmeno. Come ti dicevo prima, basterebbe il 50% delle competenze che impari in accademia per essere più bravo del 90% delle persone là fuori. E non sto esagerando. E questo te lo dico proprio perché ci sono persone che fanno parte di questa terza categoria che si mettono lì e finché non raggiungono il loro obiettivo non mollano, semplicemente non mollano. Ok? Ne abbiamo parlato tante volte, superare la paura, andare avanti nonostante tutto, stare in mezzo alla tempesta, godersi il viaggio, godersi il momento, godersi tutto quello che si fa, perché fondamentalmente è il modo migliore, un passettino alla volta per arrivare al proprio obiettivo. Chiaro, nella vita, io lo dico sempre, si può arrivare a essere tutto ciò che si vuole, non c'è limite. È chiaro che se voglio arrivare a essere un astronauta probabilmente non ci posso arrivare per dei limiti, ma nessuno mi impedisce di avvicinarmi il più possibile a quella meta, diventare il migliore esperto di astronauti in Italia, cioè saperne anche più di loro, perché la mia passione mi porterà a far quello. Quindi non c'è limite, ok? Se vuoi diventare un esperto digitale ci arrivi, se vuoi arrivare a essere quello che guadagni di più di tutte le persone che conosci ci arrivi perché è solo nel mettersi lì e dire ok, il mio obiettivo è quello, voglio essere libero e lavorare meno, voglio guadagnare di più, finché non ci arrivo continuo a lavorare costantemente, lascio perdere i giudizi delle persone, lascio perdere tutto quello che il mio cervello mi dice per sopravvivere, ok, fermati, non farlo, molla, non si può certo vivere per lavorare, no, non si può, io sono il primo a dirlo, ragazzi, noi lavoreremo per un terzo della nostra vita come orario, ok, nella giornata, 8.16.24, un terzo, lo dedichiamo al lavoro, perché non goderselo, ok, perché non rendere una cosa che mi rende migliore le altre 16, invece di aspettare che passino queste ore per godersi il weekend, per godersi la serata e l'aperitivo, no, ragioniamo a lungo termine, cavolo, portiamo avanti l'obiettivo, sacrifichiamo un pochettino di cose che danno piacere immediato per qualcosa che ci dà piacere per lungo tempo nel medio-lungo periodo, quindi tra un po', perché non facciamo così? Questa è la cosa migliore, perché chi ha questo mindset ci arriva, ragazzi, non è una questione di talento, scordatevi il talento, non esiste, il talento non esiste, ok? Mettiamoci qua a dire un'iperbole veramente, il talento non esiste, ok? Fregatevi di quelli col talento, perché chi ha talento non impara a sacrificarsi, chi non ce l'ha impara l'arte del sacrificio e l'arte dell'arrivare all'obiettivo, che è importante in qualsiasi ambito della vita, e quando cominci a far funzionare un ambito della tua vita, tutto il resto funziona meglio, e quando ti metti nella categoria uno e due che la tua vita fa schifo, perché da una parte ti ritrovi soffocato da altre persone e dall'altra parte sei soffocato da te stesso e cosa fai? Vivi di merda, vivi male, ok? La parte della giornata dedicata ai tuoi obiettivi per poi star male anche dopo. allora perché non renderci in metterci in condizione di essere felici e vivere bene andare al nostro obiettivo e quando ci siamo arrivati andare a quello dopo perché è lì la felicità ragazzi sistemare la propria vita professionale per rendere fantastico quello che avviene intorno. La vita è avere un obiettivo ok? Non è essere dedicata al lavoro è vera questa cosa ma è avere un obiettivo e su quell'obiettivo dobbiamo mettere tutto noi stessi perché quel tutto noi stessi sarà l'unico ricordo che avremo quando saremo vecchi quanta energia ho messo a fare quella cosa che bello è stato quando ci sono arrivato non vi ricorderete quando siete stati otto ore a fare niente assolutamente quella roba lì non conta niente è tempo perso abbiamo una vita sola ed è purtroppo va in una direzione nella direzione della fine dobbiamo godercela perché non si torna indietro non ce l'abbiamo la carta numero due ne abbiamo una sola allora appoggiamola sul tavolo e godiamocela perché è così e per goderci meglio le cose dobbiamo dire ok devo fare devo realizzare i miei sogni fanculo a chi si mette in mezzo fuori non vi mettete tra me i miei obiettivi perché io ho una vita sola e il mio obiettivo è lì e lo devo raggiungere ok se vuoi stare con me bene se non vuoi stare con me ci vado lo stesso basta questo basta questa convinzione fare un passetto alla volta per essere quelli che alla fine le cose le fanno quindi basta dare essere della categoria due e dare colpe agli altri colpe non ho il talento non ho le opportunità sono sfigato ok ragazzi se nasci in Afghanistan sotto le bombe forse ti posso dare ragione lì nella piramide di Maslow pensiamo a sopravvivere non è il caso di nessuno qua ok è solo una questione di obiettivo paraocchi e andare avanti spero che questo video ti abbia un po' aperto la mente questi video servono soprattutto per avere il punto di vista di una persona che ti può guidare alla carriera ok siamo qui per avere una guida alla carriera ma la carriera si fa se si ha la testa giusta quindi qua si parla di testa ok le competenze le guardiamo fuori da questo corso questo corso è per la testa quindi se non ci metti la testa se non metti la testa nel modo giusto non arriverai a far niente di tutto questo e te lo dico proprio per esperienza sono veramente 25 anni che vedo le persone e non riconosco categorie diverse da queste tre ok quindi mi raccomando avanti tutta e ci vediamo alla prossima lezione